L'Italia è sempre più populista a giudicare dai sondaggi sulle intenzioni di voto, ma i demita zio e nipote sono sempre più convinti, come sintetizza lo slogan del loro movimento, che l'Italia è popolare. Ora però non se la prendono più soltanto con Salvini, un poveraccio che discetta senza pensare, oppure con Renzi il pensiero non era il suo forte. Ora perfino il nipote sale in cattedra e dà lezioni, naturalmente di pensiero, non di meno che al governatore De Luca, del quale ha detto che agita le sue 13 liste da mandare al massacro delle regionali. Cosa dire? De Luca di liste ne sta preparando appunto 13 in tutta la Campania. Al comunale di Avellino, zio e nipote, non sono stati in grado di farne almeno una.